ma voi passate questo qua vi passate questo qua vi fate così andate e ma adesso vediamo che va vi rimetto questo vi rimetto rilasciati vi rimetto rilasciati ciao vi abbiamo you guys ciao 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 Grazie a tutti. Allora questi partono o cosa? Che noi abbiamo una certa fritta. All'angolo col parco. Ci vediamo in Mongolia. Allora... Allora... Forse! Cosa forse? Allora settembre allenamento! Non arriva quanto fa! Un miliardo e mezzo tutta la stagione! È registrato eh? Benissimo! Grazie ragazzi! Ciao! Ciao! Grazie a tutti!